Di che giorno parli? Freeze! Hai già visto questo giardino? E anche te! Allora, Tommy, io ti ho promesso una cosa quando sono uscito, quella sera, a dicembre, che ti avrei seguito, ti avrei sostenuto e ho visto la tua crescita dal punto di vista personale ed era la cosa a cui tenevo di più in assoluto. Sono riuscito a farti avere meno paura di certe cose e questo per me vale più di ogni cosa e ricordati che una delle più grandi ricchezze è quella di poter avere delle persone su cui tu puoi contare e tutti noi possiamo contare. E l'amico vero, come sei tu e come sono io per te, è quello che capisce i difetti e è quello che li accetta. Alfonso, non dobbiamo tenere così? Stop, freeze! Eccomi! E' quello che volevi chiedermi, schermette!